Ciao a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video Ragazzi siamo qui su Yu-Gi-Oh! 2 Links E ragazzi, passiamo al nostro evento, oggi siamo con il secondo episodio Ma prima voglio fare una piccola precisazione Allora, negli ultimi video, diciamo in quello precedente e in questo e nei prossimi che farò, soprattutto di questa serie I commenti, il fatto di lasciarli con i vostri commenti nel video ci sarà sempre e comunque Ma non li commenterò appunto perché penso di registrare più video negli stessi giorni Quindi questa volta, beh, non è capitato, infatti ieri non ho giocato per tutto il giorno perché avevo da fare varie cose Poi non potevo registrare, quindi sono rimasto anche un po' così perché volevo giocare l'evento e non l'ho giocato perché lo voglio fare completamente insieme a voi Quindi già oggi penso di fare più video, diciamo almeno 2-3 video solo oggi E penso che quindi almeno con questa nuova serie ragazzi riuscirò a postarvi fissi un video al giorno proprio fisso Allora, se ricordate bene dallo scorso video avevamo fatto solo il primo tiro di dato Ho giocato comunque in Duel World per avere un bel po' di dati, ne abbiamo 255 Penso che ci faranno fare un bel po' di viaggi e passiamo velocemente quindi senza perdere tempo a tirare il nostro dato Uh, abbiamo beccato il 3 ed è perfetto perché volevo vedere il forziere che cosa ci dava Ok, semplicemente un gioiello raro, non è male Tiriamo ancora il dato, speriamo di non fare uno perché se no, eh ragazzi, neanche a dirlo Perfetto Quindi questo qui dovrebbe essere un livello 7 Quindi veramente sarà molto easy Allora, sono con Kaiba Con il Naturia sempre E penso ragazzi di giocare quasi tutto l'evento con questo deck perché davvero mi piace tanto E ormai, diciamo così, non ho altri deck chissà quanto competitivi o comunque chissà quanto buoni Mi sono stati dati vari consigli nei commenti per questo vi ringrazio Cercherò di ascoltarli tutti e di vedere un po' che cosa riusciamo a fare con questo evento Allora, abbiamo una torre a zucca e fragola Iniziamo noi, perfetto, fragola più windstorm coperta E possiamo benissimo terminare qui il turno Se è un livello 7 penso che giochi mostri molto bassi, esatto, coperti E a questo punto, giocando un mostro, posso fare benissimo combo OTK in questo turno Quindi sì, effetto Naturia zucca Giochiamoci Hortensia In modo tale da avere un livello 5 Andiamo con sfondamento Più 300 per tutti quanti i nostri mostri belli pompati 1700 dovrebbe più che bastare per distruggergli il mostro E il resto è un bellissimo OTK on the face Perfetto Quindi, vabbè raga, livello 7 non è che c'era il dubbio Avrei potuto benissimo skipparvi questa partita perché non è assolutamente servita a nulla Comunque, vediamo un po' più che altro per vedere che cosa ci dà 20 monetine, non male Ovviamente, andare contro i personaggi leggendari, cioè i duellanti leggendari è tutta un'altra cosa Ottimo, ci prendiamo qualche monetina che secondo me, vediamo un po' ce ne danno 30 Non è male, lo dobbiamo dire Comunque, per tirare il dato dobbiamo usare sempre 7 dadi Ok ragazzi, io so di essere un po' sfortunato quando si tratta di tirare dati, monetine e cose varie Bene, inizio con 1000 life points, grazie Però raga, che cavolo, mi sto beccando tutti gli sfidanti Fatemi sapere se anche a voi succede così o se sono io che me li sto beccando tutti Proprio così a sbaffo E l'unica cosa che vorrei veramente riuscire a fare è vedere che cosa succede quando mi danno quegli oggetti Cioè quei dadi particolari che mi fanno fare dei passi in più Cioè se li utilizzo prima di tirare il dato o dopo tirato il dato Cioè se è dopo tirato il dato, veramente ragazzi è una cosa incredibile, veramente una cosa ottima Allora, mano iniziale veramente ottima, ma dire ottima forse dire poco Andiamo col... mandare al cesso proprio il nostro scarafagione E abbiamo già un'ottima combo Visto che so che il nostro avversario non è un granché Penso che un 1500 possa bastare E invece ho fatto una bella figura del cavolo 1600, 1600, vabbè comunque questo qui è il vagabondo che effettivamente non è come i duellanti normali Lo dobbiamo dire Perfetto, carta giusta al momento giusto ci fa fuori il controllo avversario Potrebbe anche attaccarci esatto il 1200 Subiamo 500, rimaniamo veramente a poco Allora, o riusciamo a chiudere in questo turno o niente E infatti ce la facciamo senza problemi Perfetto, effetto di natura zucca Entra la nostra bellissima fragolina Grazie a Hortensia possiamo pompare tutti più 300 E ragazzi, ancora una volta Abbiamo vinto con una vittoria rapida Se i miei conti sono quasi giusti o forse no, forse sì Penso proprio di sì Ok Giusti giusti, 100 punti in più Ok Anche il vagabondo quindi è andato Vediamo se il vagabondo essendo un po' più complicato Si ci dà qualche monetina in più L'altro ce ne ha date 20 Se non sbaglio ragazzi ce ne ha date 20 Ok, questo 60 E quindi sì, ce ne dà comunque di più Voglio almeno finire questa run prima di bloccare E ragazzi, guardate, proprio lo fanno apposta Sono anche curioso di vedere che cosa fa il libro E no, niente, non mi fanno assolutamente vedere niente Mi stanno solo facendo fare partite a sbaffo Ok, questa ve la salto raga Ok ragazzi, ve la volevo saltare Ma praticamente mi diverte farvi vedere che al secondo turno Teniamo la combo OTK praticamente E solo per sfizio vi faccio vedere appunto come OTK questo avversario Che non serve letteralmente a niente E continuiamo con la nostra avventura Perfetto, quindi secondo turno Combo OTK perfetta Combo massima del Naturia E abbiamo vinto la partita al secondo turno Quindi rapidissima Ma comunque un taglio iniziale ve l'ho fatto Perché meglio così Risparmiamo un po' di tempo Non ho neanche il tempo davanti Quindi non so quanto tempo è passato Comunque tiriamo un altro dato Speriamo in un numero 1 Ottimo Ottimo Lo devo dire più spesso Quante monetine? 15 Non male Ok finalmente Tira il dato Ultima fase Andiamo contro Mai Numero 2 Lei ci stoppa ovviamente E andiamo ad affrontarla Ci sono ovviamente i dialoghi e tutto il resto Schippiamo tutto Schippiamo tutto Come posso fare così? Non ricordo Forse si vado più veloce Ok Livello 20 Livello 40 Proviamola a livello 40 Mi è stato consigliato di un numero Non fare a livello 40 Seto Kaiba Questa qui non lo so Proviamola Usa Joy Usa Stregone del Tempo Esegui su un gesto di evocazione tramite fusione In un duello Ok ok Sì le missioni ci danno 15 monetine per ogni missione Ma non penso che fare le missioni sia tanto necessario Cioè non ci da nient'altro oltre che monetine Quindi secondo me raga possiamo anche evitare di pensare alle missioni Detto proprio sinceramente Ok inizieremo noi E non è la miglior cosa con il Naturia Sempre meglio essere i secondi ragazzi Veramente sempre meglio essere secondi con il Naturia E infatti infatti La mano che ci è capitata è veramente pessima Allora io Non so se giocare la castagna e giocare Hortensia Però poi farmi distruggere la castagna E fare praticamente nulla Ma se la gioco e non me la distrugge Evoco poi cervo volante E abbiamo vinto Quindi vabbè Rischiamo anche se Anche se Anzi no No perché raga è il livello 40 Quindi io penso che Come minimo abbia un mostro forte Infatti un 1800 Immaginavo Molto meglio subire dei danni Molto meglio subire dei danni Infatti vedete Con il Naturia Molto meglio subire Se iniziate al primo turno dei danni E poi ripartire con la massima cattiveria E praticamente Oticappare il vostro avversario Perché sì Se tutto va bene Se la sua carta coperta non è niente di che L'abbiamo praticamente oticappata anche a Mai Quindi vediamo un po' Il suo è un buon 1800 Io ci andrei di Naturia Zucca In modo tale che sia un muro a specchio Qualcosa del genere Non mi importa che mi distrugge la Zucca Invece non ha praticamente niente Aggiunge Una Lady Arpia Che gli è completamente inutile A questo punto Gli attacchi vanno lisci diretto Quindi non ha nulla Ragazzi O TK Su My Valentine E perfetto Abbiamo vinto anche questa Livello 40 Otteniamo 150 Monetine E io direi che Come cosa va molto molto bene Allora Le mie arpiglie Si non rompere il cavolo Non abbiamo fatto nessuna vittoria Di Di missioni Però ok Zona Completata Ok Abbiamo ottenuto 10 gemme Questo non lo sapevo Quindi dalla foresta Passiamo ad una nuova zona Bellissima questa animazione ragazzi Bella Bella veramente Non le so tutte queste cose Però mi stanno piacendo davvero tanto Ocean Zone Siamo nella zona dell'oceano Ok Ci stopperà Mako Tsunami E poi Rex Raptor Ok ragazzi Io penso che Possiamo aprirci giusto La lotteria E poi concludiamo qui questo video E praticamente ragazzi Faremo così Tutte Le volte Quindi in ogni video Cercherò di fare così Andiamo ad aprirci Questa lotteria da ben 10 oggetti E non male Non male Ci sono un po' di carte Vediamo un po' Allora Detonare Sfiziosa Mammut Delle zombie Ho letto bene No Delle tombe Ok Mammut Delle tombe Sfizioso Questo fa schifo E questa L'ultima L'ultima Sfiziosa Inferno E' Inferno E' Inferno E' Inferno Inferno Bella raga Bella raga